Ciao ragazze, altro piccolo video acquisti, un pochino più interessante, abbiamo comprato qualcosa per il mare, siamo stati da Tezenis, ha preso un costumino mio figlio, ovviamente ci sono gli sconti, ho preso io questo pantaloncino molto leggero, rifinito così, molto tranquillo, spartano, non so come dire per il mare, ma del mio colore preferito. E poi la cosa più interessante ragazze, per chi come me vuole nascondere un po' la panciotta, ho trovato queste slip che andrò ad abbinare poi con i vari sopra che ho a casa, che sono molto alti, costano solo 6 euro l'una, lì li ho visti bianchi, rosa, questo verde, poi c'erano anche rossi, molto interessanti davvero per un prezzo piccolissimo. Poi ragazze sono stata da Medimarket, la parafarmacia, questa qua, che trovo al Merlata Blum, che è un centro commerciale, il mio preferito di questo momento, a Milano, e qua ragazze ho voluto provare a prendere questi prodotti dalla linea SVR, che ho già provato, mi piace, nasce per le pelli intolleranti, senza profumazioni né niente, un po' tutta la linea, qua si è aperto un po' il tappo. Io ragazze in questo periodo ho la pelle che la sento molto, molto unta, la sento grassa, comunque sia, allora ho voluto provare a prendere questo, già il detergente per il viso, è delicato, idratante, ma anche purificante. Questa crema, anche lei, è una crema, una lozione, è sempre molto delicata, qua è scritto molto piccolo in italiano, però molto delicata, sempre per chi ha la pelle appunto che mi sta tendente al grasso, che penso sia proprio la mia in questo momento. E poi ho voluto prendere questo qua, Densitium, è un contorno occhi che va a lavorare anche sulle borse e sugli occhiaie, che è un pochino il mio croccio, perché anche i contorni occhi ultimamente che ho non riesco a metterli, mi danno fastidio. Poi ragazzi qua trovo sempre delle offerte fantastiche sul Saugella, devo dirvi che ultimamente con l'igiene intima sto andando diciamo su qualcosa di un pochino più farmaceutico se posso, se sono nei posti insomma dove ci sono degli sconti, come in questo caso 9,99 euro, è da 500 ml, quindi è molto grande. Le ragazze vi regalano la bustina, c'era anche con le reghine rosa, ma io ce ne ho già tante rosa e dentro la bustina troviamo anche delle benessere quotidiano salviettine, sempre utili, questo qua sempre una salviettina, dei piccoli assorbentini e poi ragazze un dermogella piccolino, in questo caso delicato, c'è scritto per l'intimo e per il corpo. Ecco io mi trovo veramente molto bene, poi prezzo piccolo, ti danno anche sempre questi campioni e questo insomma mi piace molto. Ecco qua tutti i miei acquistini, così sono a posto, sicura e tranquilla per qualche giorno di mare. Ciao! 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 Grazie.